la notizia non farà felici i fan di diane mello che stanno sostenendo solei sorge al grande fratello vip 6 in questi ultimi giorni alcuni audio stanno smascherando l'influencer italo americana sul caso che ha visto protagonista iconizze questa volta però ne spunta un altro che riguarda la passata edizione del reality show condotto da alfonso signorini pare che la concorrente volesse entrare nella casa più spiata d'italia insieme a marco ferrero in arte iconizze dopo aver varcato la porta rossa solei sarebbe andata contro la sorge vanta l'amicizia con lamello ormai da tempo tanto che i numerosissimi fan di quest'ultima le stanno dando tutto il sostegno le fan page della modella brasiliana sono completamente schierate dalla sua parte ma questo audio potrebbe cambiare davvero tutto a condividerlo ci pensa dejanira marzano che scrive nel dettaglio le parole pronunciate dalla sorge metti me e lui sarebbe marco nella casa insieme come unico concorrente andiamo a distruggere diane e tommaso questo è ciò che si può sentire nell'audio condiviso da dejanira per ascoltarlo è necessario recarsi sul profilo instagram dell'influencer i fan della mello potrebbero voltare le spalle a dopo questo sicuramente la sorge avrebbe voluto con il supporto di iconizze distruggere il percorso sia di diane che quello di zorzi nel suo mirino sembra fossero finiti entrambi che hanno lottato tra loro per la vita molto probabilmente solei non avrebbe potuto mettere i due ex gf in una brutta posizione il pubblico lo scorso anno era diviso in due e ha portato entrambi in finale la vittoria è stata conquistata alla fine da zorzi ma la sorge non avrebbe avuto dalla sua parte iconizze a quanto pare infatti nell'audio in questione è possibile ascoltare la risposta di marco no amore